Un solitario animale notturno. La targhetta è un semplice biglietto da visita, un filato dentro una condicetta di metallo, abitata nel legno. La povertà del biglietto, da tempo ingiallito, contrasta con il toro compiaccetto della scritta. Caraceni, professore Arturo, già ordinario di filosofia teoretica. La sera che bussai alla sua porta, venne ad aprirmi come se mi aspettasse, fece un passo indietro per lo stupore. Era ammantato, letteralmente ammantato, in un enorme poncio variofinto che gli scendeva dalle spalle.